Ciao a tutti nini, benvenuti nello speciale 100k Vi ho detto, sarà un video chiamato in onore del passato Ho messo anche la pulce nell'orecchio Oggi siamo qua per un video che non ho a tutti piacere al gameplay Forse, che comunque è un gioco, quindi non ho a tutti piacere Ma comunque sarà un video commemorativo Sia per me, sia per il canale, sia perché abbiamo fatto 100.000 iscritti Io vi ho detto sempre, comunque durante questi 8 mesi di Youtube Anche se alcune persone continuano a chizzarmi Lo sento e so di essermi migliorato molto Quindi oggi siamo qua nella speciale 10k Della Chubby Bunny Challenge su Call of Duty Ogni morte prenderò un marshmallow, lo metterò in bocca E dovrò dire grazie 100k Quindi rischio anche di mangiarne una quarantina Non tutti insieme perché disputerò nel mio fido sacchetto ovviamente Il punto in onore dei vecchi tempi perché è anche lo speciale dei miei 10k Solamente ho visto un divario talmente grande Tra lo speciale 10k e i miei video attuali Che volevo riproporvelo con la mezzisti Anzi si dice, con i mezzi di oggi E comunque con il mio apportamento Vi invito anche a guardare lo speciale 10k Che metterò in descrizione Giusto per vedere le differenze Potete anche chiuderlo Ho anche il marshmallow dei puffi Non si sa mai Anzi userò questo Almeno vedete anche lo schifezzino qua giù in fondo È più trasparente E ho deciso di usare i marshmallow dei puffi invece Perché ho notato che nella busta Non so se si vedono Ma ragazzi i marshmallow sono a forma di puffo Quindi adesso all'ausilio delle mie forbici a punta rotondata Ovvero i miei denti Andrò ad aprire il sacchetto Che sembra inapribile Scusate Che sembra inapribile Scusate Era più facile perché sembrava Allora i marshmallow li abbiamo Il sacchetto c'è Andiamo a giocare Ovviamente userò i mezzi più subdoli Per provare a fare delle kill Invece delle dette Perché ovviamente Se non le è maiala Ovviamente giochiamo in dominio standard Perché almeno è possibile fare anche un bordello di dette Ok Nini Stessa Stesso modus operandi dell'altro speciale Ogni morte Metterò in bocca un marshmallow Dirò grazie 100k Lo terrò in bocca Fino a quando ovviamente Non usciranno da soli dalla bocca Perché è quello il punto Brutto e schifoso del video O di vado con una botta pazzesca E manca poi mi ammazzano con un cazzotto Guarda Mi arrabbiavo eh Mi arrabbiavo Spaccavo tutto Comunque 3-0 Si inizia a Bene Bene Non diciamo alla grande Perché poi me la tiro E muoio 1500 volte Ed è la fine di tutto Scendi Uh Ok lui è salito mentre io scendevo Ok meno male 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 Via via Ciumbia 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 Ok Ok lui sta laggiù Sperando che io spunti Ma invece non spunterò Attenzione Una FK A FK Cheat away from keyboard E poi non c'entra niente Con away from keyboard Pura vabbè dettagli Oddio me ne sono spawnati due dietro Ce n'è uno qua sopra Due arrivano da qua No No Un FK Ti pareva sparare all'FK Ti pareva le due Che poi sono enormi questi marshmallow Sono grandi quanto dita Cioè un dito Un marshmallow Cioè ma voi siete pazzi Siete pazzi Siete Siete pazzi Siete pazzi Tirala Boom Ok niente Allora Grazie 100k No ragazzi Io non me ne infileremmo 3 di marshmallow In bocca Io non ce la faccio mica Non ce la faccio raga Raga non ce la faccio Ok una kill l'ho fatta Una kill l'ho fatta Una kills L'ho fatta Ok dov'è che sei Uh Assist Ok Adesso interlocchiamo con A Saliamo sopra Che c'è sempre un bordello di gente Ok Doppia 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 Kill Attenzione Qualcun'altro in saltella Come un deficiente Te 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 qui Che ci fai te E vabbè dai Siamo avanti Vabbè Grazie 100k Ancora è abbastanza facile parlare Per fortuna Poi voi direte Ma non è tanto facile giocare con X marshmallow in bocca E parlare con X marshmallow in bocca Più che altro Ma vabbè Ci proveremo solo per voi Solo per numeri due Allora Killalo Kill anche lui E kill anche Lei laggiù No Entra dentro Entra qua dentro Sperando che ci sia un nemico lì Bravo Un nemico lì Che non mi uccide magari Un nemico Un nemico è per sempre Un nemico è per sempre Madonna mia Ok Ok ragazzi Ci sono Ci sono Ci sono E vabbè dai Dai Ma quanti Grazie 100k Io ho 100k di nemici contro È diverso Mi avete visto Non finiscono più Cioè sono infiniti ragazzi Ok lui si è svegliato Attenzione No Madonna Ho visto il campo Ho detto vai Morto Vabbè Grazie 100k Da un lato Sti marshmallow Non sono nemmeno male Perché sono abbastanza morbidi Quindi si piegano tutti in bocca Cioè è un bonus In teoria Perché Se non si piegassero Sarebbe un problemone Ma vabbè Così No 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 Killalo Chi Tatt è buono Tatt è buono Killalo 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 Bravo Tatt è buono Tatt è buono Quindi spunta uno Un altro Un altro Ok L'armatura L'armatura Eh ma quanti sono però Vabbè Grazie 100k Ragazzi Grazie Grazie 100k Madonna mia Grazie 100k Un po' Sto ancora A parlare Non tanto Tutta Ma Perché sono un animale Allora Cosa vogliamo fare Allora Ragazzi Come Come Grazie 100k Oh Ma io di prima Ti ho visto Non fare finto tonto Regà Quanto gente Già Via 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 Entra Veloce 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 Te che fai Campeli A merda Te Oddio C'era il tempest Lui Capone Fulminava E Zeus Che sbaglio Che sbaglio Un pezzo Di marshmallow Si è staccava Schifoso Andiamo al secondo round Perché non ce la faccio Stanno a parlare Anche per tutto L'intermetro Tra poco Certo che un fazzolettino Ci stava bene Giusto per Pulirsi Ma Vabbè Dettagli Allora Guardate Qui funziona così Qui corri su C Qui salti E lì fa la Kill gratis Kill gratis Kill gratis Vabbè Oh 10 Vabbè Grazie 10k 100k Che dico Però io non l'ho Dice 10k Tutto il video Che sennale Maiale Chiudalo Madonna Non mi Dio ragazzi Ma che siete pazzi Oddio Scusate per il taglio brusco Ma Adesso è arrivato direttamente Alla scena Dove Regettavo I miei Marshmallow Attenzione Due kill a fila Attenzione Adesso ragazzi Lo prometto Non muoio più Giusto un paio di volte Non di più Perché Sennò diventa uno schifo Cioè nel senso È proprio brutto Cioè nel senso Fa schifo proprio Schifo schifo Ok Ok kill No Lui è scappato Di gran carriera Adesso si dice Dov'è il nemico Che mi stava sparando E manca poco Muore Vabbè Dettagli Da dove sei arrivato Scusa Secondo me qua Adesso spuntava Alcuno Esatto 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 Muori Muori Ok Ancora qua spuntava Alcuno Secondo voi No era bassa L'armatura Arrò se ho finito colpi Ho finito colpi Mentre tiravo l'armatura Quella divina Che mi permette Di non morire mai Ok Nemici Nemici che si mettono a camperare In maniere A dir poco Errate Diciamo Io una bella granata Guarda così Tirata A nonchalance Proprio Qui entro in casa Di un brutto Schifo Scendo al piano Di sotto E non c'è nessuno Dove si danna Dove si danna Ah bello 100k Ah 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 Questi due marshmallow in bocca A forma di puff Guarda Sento proprio le ossicine Che stanno sciogliendo Della mia saliva Che bell'immagine Sono veramente Una persona bella Educata Il buon tono Allora No Ok No Vabbè Poi mi Deve sapere Io ho i guanti Di lattice Di solito Perché mi fa schifo Toccare Il pad Quando ha le mani sporche E' zuccherosa Figurano le stop Comunque Grazie 100k Allora No No Muori Ok 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 No No Non c'è Com'è lui Sono male Sono mal di pancia Grazie 100k Anche la saliva Che mi sta colando Dalla bocca Vi saluta Muori Muori Non c'è nessuno No Guardalo Grazie 100k Dunque Da me siamo Nello spawn Nel icon Le fossi del lupo Il lupo selvaggio Il bravo bravo Avete capito Dunque Se mi fate male Se io vinto Anche un favore 194 punti Posso ancora fare qualche kg Attenzione Dove sono i nemici 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 Oh Dice una cassa Tidalo Ok Ok Non voglio Dall'approvvigionamento Lo ruberò No Ho rubato un coda Va bene così Ok Non so quanti Lasciate in bocca A forti Più di rato Più di rato Dove ho fatto Minchia Con tutti Stai un po' L'abbro in bocca Ho mangiato Due Ho mangiato 17 marshmallow In due mandate Quindi io dovrei avere Circa 9 in bocca In questo momento Spuntanti Cioè mi ricordo Che un marshmallow È uguale a un mio dito Indice Quasi No È un mignolo Però Per due Che è grasso Con la saliva Si gonfia Infatti Non ho uno Che mi sta spuntando Da qui Comunque ragazzi Vi invito ad andare a vedere Nei commenti Vi invito ad andare a vedere Qui sotto Il video Di 10k E confrontarlo con questo Scrivetemi nei commenti Cosa ne pensate Se un bel mi piace Comunque ragazzi Andrò a dirvi Che un video Per 100k Non vuol dire Che io festeggio Solamente il raggiungimento Di un obiettivo Io vi ringrazio Sempre Vi ho già detto Questo è commemorativo Quando io vedrò Questo video Vi ricorderò Del momento passato Quando ho raggiunto 100k E perché non può Stare dopo un nuovo In un video divertente Mi lasciano un bel mi piace Un commento Una condivisione Iscrivetevi al canale Poi stare ai miei social E ci vediamo appunto Al prossimo video Al prossimo video speciale Per questo video Era tutto Ciao nini